Torna l'appuntamento con le vie dei tesori. Sciacca si prepara al secondo fine settimana per quello che è stato definito uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città. Sabato 10 e domenica 11 ottobre Sciacca racconterà la bellezza di diversi luoghi, palazzi, chiese, torri campanari, archivi storici, gallerie d'arte, con passeggiate nel quartiere di San Leonardo e in quello degli ebrei a Roccanadore. Le visite, le passeggiate e le esperienze saranno effettuate nel rispetto delle misure anti-covid e dei protocolli ministeriali con il contingentamento ed altre protezioni e precauzioni. Prevista tra le altre cose la possibilità di seguire un'audioguida sul proprio cellulare. Il programma, con tutti i tesori aperti e raccontati, è sul sito www.leviedetesori.com, dove viene illustrata la modalità di partecipazione con prenotazione online. È possibile acquistare biglietti giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 al Museo del Mare. Una grande occasione per i cittadini e i turisti, dicono il sindaco Francesca Valenti e l'assessore alla cultura Gisella Mondino, per scoprire o riscoprire le meraviglie di Sciacca, entrare in luoghi sconosciuti o chiusi al pubblico e farsi affascinare dall'avvincente racconto di storie uniche, di aneddoti e curiosità, con le voci di tanti giovani innamorati della città. Un viaggio nella preistoria alla scoperta dei siti archeologici di Tranchina e di Nadore, un viaggio nella modernità attraverso le scale di San Leonardo, un tempo quartiere a luci rosse che ospita i capolavori della street art e poi ancora passeggiate tra i cortili catalani e i vicoli del quartiere ebraico fino alla sinagoga. Sciacca dal basso e Sciacca dall'alto, l'inedita chiesa della Madonnuzza nel quartiere dei Marinai e la chiesa rupestre di Santo Nofrio con la vista mozzafiato che regala la torre campanaria di San Michele. L'edizione di quest'anno propone anche le maioliche del Bonachia e i palazzi storici, come il Palazzo del Podestà, Palazzo Lazzarini e i nobili Graffeo, protagonisti del caso di Sciacca, l'esclusiva visita dai tetti della Chiesa del Carmine e l'immersione nel fantastico mondo della creatività con i laboratori di corallo, di ceramica e di cartapesta.